sul mio canale youtube in questo nuovo video come avete letto dal titolo oggi andremo a fare la prediction degli europei 2021 però prima di iniziare vi volevo dire che appena uscito un sondaggio sul mio profilo instagram link in descrizione mi raccomando andate a votare allora iniziamo subito partiamo dal gruppo A che già l'ho completato il gruppo dove c'è anche la nostra Italia allora al primo posto ho messo l'Italia perchè comunque siamo forti possiamo arrivare primi abbiamo un sacco di giocatori bravi soprattutto giovani quindi secondo me arriviamo primi poi qua c'è stata una scelta non proprio facile tra Galles, Turchia che non so perché me l'ha tradotta in tacchino e poi quarta Svizzera ci ho messo comunque non è stata una scelta molto facile però secondo me alla fine arriveranno seconda Galles terza Turchia e quarta Svizzera poi andiamo a fare gli altri gironi girone B qua mi sembra un pochino scontato io dico prima il belgio perchè in sostanza è la scuola più forte hanno giocatori veramente forti io ho soltanto il nome di Lukaku ma ci sarebbero altri nomi da fare che comunque sono comunque giocatori forti quindi io dico prima il belgio poi anche qua non è una scelta abbastanza facile tra Russia, Danimarca e Finlandia io dico però Danimarca seconda terza la Russia e quarta la Finlandia poi andiamo al girone C girone C che oh mio dio un po' difficile qua perchè comunque la Macedonia del Nord ha fatto bene nelle qualificazioni l'Austria io non la sottovaluto poi c'è l'Ucraina e infine l'Olanda che comunque l'Olanda come il belgio sono messi bene hanno veramente giocatori fortissimi e quindi secondo me qua prima arriverà l'Olanda poi seconda è un pochino difficile però io ci metto la Macedonia del Nord perchè comunque possono fare bene quindi secondo me arriveranno secondi in questo girone poi terza l'Austria e poi come ultima io ci metto l'Ucraina poi andiamo al gruppo D gruppo D che qua è un po' difficile tra Inghilterra, Croazia, Scozia e Repubblica Ceca però io qua dico prima l'Inghilterra perchè comunque sono ci sono giocatori forti della Premier League chiaramente poi anche la Croazia è forte perchè comunque al Mondiale del 2018 è arrivata al secondo posto però io qua dico prima l'Inghilterra e poi seconda la Croazia e poi qua un pochino sono indeciso tra Repubblica Ceca e Scozia però io qua dico Repubblica Ceca terza e Scozia ultima poi andiamo avanti girone E che oh mio Dio anche qua un pochino complicata la scelta Polonia, Spagna, Svezia e Slovacchia perchè comunque non so se adesso Ibrahimovic giocherà perchè ho visto che si è fatto male quindi dovrebbe saltare gli europei con la Svezia però comunque io dico qua prima la Spagna perchè comunque è forte quindi io dico prima Spagna poi Polonia sono indeciso tra Polonia e Svezia perchè comunque ci sono giocatori forti in tutte e due le squadre per io dico seconda Polonia terza Svezia e ultima la Slovacchia poi qua un girone di ferro perchè ci sono le squadre sicuramente molto più forti in questo girone F poi l'Ungheria che è un pochino quella più scarsa e secondo me è capitata in un girone troppo difficile però io qua dico prima Francia prima Francia perchè sono troppo forti io nell'altro video l'ho detto e ho detto che la Francia per me vincerà l'europeo quindi se io dico prima Francia poi seconda Portogallo che appunto è campione in carica poi terza io dico la Germania sicuramente e ultima la povera Ungheria poi qua dobbiamo votare le migliori terze che passeranno in girone devono essere quattro e due che non passeranno allora io qua dico Germania sicuramente poi sono indeciso qua Svezia, Austria, Russia o Repubblica Ceca io la Turchia anche se comunque c'è la possibilità che passi in girone io la escluderei per il momento quindi Turchia fuori io qua dico sì Svezia sicuramente Russia sono indeciso tra Austria e Repubblica Ceca ma io dico Austria dico Austria insomma ok andiamo avanti andiamo con gli ottavi di finale che non sono quelli sicuri però comunque li proviamo a votare ok va bene allora qua abbiamo Belgio-Germania partita tosta però io lo dico in sostanza il Belgio è la squadra più forte quindi io dico che qui passa il Belgio io voto Belgio poi Italia-Macedonia nel nord non lo dico che è scontato perché io tifo Italia però io dico l'Italia perché a dire la verità siamo molto più forti dalla Macedonia nel nord e qua dico che noi passiamo e andiamo contro il Belgio ripeto questo è un mio pronostico non è quello ufficiale ancora quindi però comunque diciamo che Belgio-Italia sarebbe una bella partita da vedere allora andiamo avanti Francia-Russia io l'ho detto che è scontato la Francia secondo me vincerà l'europeo lo dico ancora una volta quindi io qua voto Francia poi andiamo avanti Croazia-Polonia che è una bella partita tutto sommato ma io dico Croazia perché veramente ci sono giocatori fortissimi una squadra forte quindi io dico Croazia quindi abbiamo la finale del mondiale del 2018 ai quarti di finale ok poi Spagna-Austria io qua dico la Spagna perché dai è un pochino più forte dell'Austria anche se l'Austria comunque non mi pare che sia messa poi così tanto male però io dico la Spagna quindi Spagna quarti di finale qua Inghilterra-Portogallo la scelta è un pochino difficile perché io ve l'ho detto che l'Inghilterra può arrivare comunque non può arrivare in finale c'è anche il Portogallo campione in carica però io vorrei confermare il mio pronostico quindi io dico che qua passa l'Inghilterra poi può succedere qualsiasi cosa fatemelo sapere se siete d'accordo con me qua sotto nei commenti o meno però secondo me qua passa l'Inghilterra poi può succedere di tutto perché comunque sì il Portogallo è forte sulla carta perché il campione in carica proverà a confermarsi però secondo me qua diciamo che passa l'Inghilterra poi Olanda-Svezia qua una bella partita anche però io l'ho detto l'Olanda secondo me si rivelerà la sorpresa del torneo perché sono una squadra veramente tostissima fortissima con giocatori forti faccio soltanto i nomi di De Ligt e De Jong poi il resto lo sapete quindi io qua dico Olanda dico Olanda poi Galles-Danimarca scelta difficile perché qua Galles è forte ma lo dà anche la Danimarca io dico che la Danimarca qua passa tranquillamente la Danimarca quindi ok andiamo a votare i quarti di finale Belgio-Italia mi dispiace ma a malinguore dico Belgio perché sulla carta è più forte il Belgio di noi quindi io dico che il Belgio va in semifinale poi Francia-Croazia io quello dico ragazzi ve l'ho già detto per me passa la Francia quindi Francia lo sapete già il motivo quindi Francia in semifinale contro il Belgio sarebbe una bella partita da vedere se non sbaglio sono proprio arrivati loro in semifinali tra Belgio e Francia poi ha vinto la Francia chiaramente quindi sarebbe bello vedere in semifinale di nuovo Belgio e Francia poi Spagna e Inghilterra io qua dico che la Spagna se ne va a casa e in semifinale ci va l'Inghilterra poi Olanda da Danimarca mi sembra un pochino scontato il pronostico io dico l'Olanda perché sì sulla carta sarebbero teoricamente i più forti quindi Olanda in semifinale contro l'Inghilterra abbiamo due belle partite insomma allora adesso andiamo a votare le semifinali quasi carica magari ok Belgio e Francia può finire anche ai rigori secondo me perché questa partita è bellissima però io dico Francia l'ho già detto il mio motivo quindi Francia in finale come già pronosticato e chiaramente ragazzi ho già fatto il pronostico la scorsa volta e secondo me la finale sarà Francia e Inghilterra mi dispiace per l'Olanda perché secondo me potranno essere la sorpresa di questo torneo ma io dico Inghilterra in finale insieme alla Francia ok adesso dobbiamo votare la finale io già ve l'ho detto e secondo me vincerà la Francia e l'Inghilterra comunque arriverà al secondo posto secondo me che non è male quindi diciamo Francia prima ok allora ragazzi scusatemi c'è stato qualche problema con la registrazione del video mentre vi stavo salutando poi si è bloccato non me ne ero accorto vi saluto adesso e vi dico come già detto prima che è appena uscito un sondaggio sul mio profilo Instagram mi raccomando andatelo a votare un sondaggio super importante vi lascio il link in descrizione noi ci vediamo in un prossimo video per il momento è tutto bella ragazzi grazie